no non si fa si ma ma come fate voi non mi sento ancora così bravo yoohoo Grazie. E' un altro pezzo. Devo venire a scontro di più. E' un altro pezzo. E' un altro pezzo. Ma secondo me forse quando arriviamo su di Ansella, perché qua non ho visto i vivi. Non mi pare. E' un altro pezzo. Stai insieme. E' una scontrazione del Ripi. Per essere attivati come in più. E' una scontrazione. E' un'altra scontrazione. Il regnamento è stato bellissimo. E' un'altra scontrazione. E' un'altra scontrazione. Già lo stiamo arrivando. E' un'altra scontrazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.